Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video, riprendiamo con Call of Duty Mobile Ragazzi oggi partite a random ad Alcatraz, ma prima vi volevo far vedere questa fotografia qua L'ho scovata su uno dei gruppi di Call of Duty Mobile Italia E come potete leggere, confermato zombie sulla mappa classifica DVR, purtroppo per il momento sarà solo momentanea Questo posto è dedicato a tutti gli amanti della malta zombie, in arrivo per fine ottobre Probabilmente per un evento di Halloween Infatti sembra sia ufficiale che questa modalità ritornerà temporaneamente per la mappa classica DVR Sostituendo Alcatraz, in modo da non presentire troppo il gioco In seguito però sembra che comunque ritornerà in maniera definitiva, inaugurando alcune delle sue mappe storiche Sarebbe veramente una figata introdurre, appunto per la settimana, o comunque per i giorni, intorno ad Halloween Che comunque fra circa una settimana, o poco più, qualcosa sugli zombie nella VR Io tra l'altro avevo visto alcune immagini, alcune fotografie di alcuni BR, tipo nella mappa storica, tipo con la nebbia E sarebbe una cosa veramente strafica E poi questa abitazione molto dark, molto misteriosa, molto scura, tipo alla Walking Dead E giù di lì speriamo ragazzi che appunto introducano i zombie A parte che la modetta zombie l'avevo provata ai tempi, non avevo mai portato nessun video Tra l'altro mi sono invitato a una battle royale e andiamo ad accettare Quindi mi hanno accettato tra l'altro una partita, faremo appunto mappa Alcatraz E quindi stavo dicendo, sarebbe appunto una cosa veramente fica Io avevo giocato a quelle partite di zombie che poi hanno tolto E so che molte persone stanno aspettando il ritorno appunto della mappa da zombie E spero che con questa VR, questa fantomatica VR Mamma mia, si crea il panico tra ammazzarsi tra giocatori e bot Più gli zombie, mamma mia il divertimento Ultima cosa, comunque se invece dovessero ritornare delle partite tipo MG Però con gli zombie, con le storiche che abbiamo visto all'inizio del lockdown Ragazzi se ritornano ho promesso che farò dei video a riguardo Ci facciamo due risate Comunque, riaccendiamo i microfoni e ragazzi Io ci sono, partiamo Tra l'altro come vedete ho anche sbloccato l'ascia, mamma mia Lascia spaga i culi Attenzione, andiamo a fare il taglialegno Attenzione, attac Ammazzali tu, dai diccelo Ammazzali tutti Ammazzali tutti Zio Khan Raga, mi frego a spingere questa musica Jets Bella, uno Aspetta che c'è un altro salame Cazzo Abbiondo, dov'hai? Guarda questo Chi ci prova? Salve Tutto bene, tutto a posto? Tutto a posto? Ehi, dolfino durian State a court Come dicono i nostri amici napoletani Napoletani e oltre Ho dato sensore ragazzi qua Oh, non avete lasciato niente Ma siete proprio di sciagalli Tac Celulatina Vai, vai, drogati, drogati Ma se ce l'hai Aspetta, dove sei? Ma donna, sei in culo ai lupi Come ti lascia? Eh, sai che non lo so? No? Eh, non lo so Eh no, ora no Eh, vabbè, sti cazzi Non ti preoccupare, dai Vabbè, io sparo all'area Ma questo è un altro discorso Dai ragazzi, andiamo alla seggiovia Che andiamo a spaccare un po' di gengive Bella lì Questa mi è piaciuta Dai ragazzi Sta per partire la seggiovia Bravo Eh, avete le mascherine? Ok Bravi Eh, eh, eh Mascherina, eh Se no poi il conte si incazza Ah Wei, 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 wei Ragazzi, ognuno per sé No, non è vero Prego, prego Prego, prego Allora ragazzi Faccio vedere il glitch Dovete entrare qua dentro Innanzitutto Facciamo un apri-chiudi con le porte Ah, tu sei giù, è vero Allora Max Guarda un po' Tac E poi tac Vedete Noi stiamo volando Mi mettete qua E appena passò uno Tagli L'ho risciato in testa Comunque Arrivo, arrivo Arrivo, arrivo Curati, curati Occhio che magari Rimono dall'alto Dove, dove? Ora rispondo Aspetta, dove cacchio sei? Ah, ma sei giù No, no, sti cazzi Non frega niente Aspetta Ah, bello Dove hai? Vieni qua Tac Dammi le cose Guarda come stava messo bene Vai con ninja No, non è vero No, no Mira bene Tac Ma baffanculo Andiamo Ragazzi, occhio che magari ritorna a quello che abbiamo ammazzato poco fa Chiudi la porta Che fa sempre design Aspetta che c'è uno vicino al drop Perché l'ho visto, è bello Che fai, scappi? Che fai, scappi? Tac No, è sponato via Guarda là Dai, Alberto, lo spotto Sulla sinistra Aspetta Bella lì Aspetta, c'è un altro C'è un altro Cazzo, la safe La safe Zio, povero Curati Sono morto Come cazzo hai fatto morire? Eh, vabbè, ragazzo Allora, siamo stati kill Oh, vuoi curarmi? Cioè, comandi che rispondono un po' in ritardo, eh Raga, occhio che sento qualcuno arrivare No, ma mi sta che è max Eh, sono tutti sulla spia Eh, sono su di sotto Eh Ma perché non li ved- Ah, eccolo là No, ragazzi, ma non so perché Madonna, ecco perché Ma perché sono 79 ping? Ma che schifo di roba Guarda quello che si fa in avanti Sì, l'ho beccato Cazzo Allora, i ping mi sono ritornati abbastanza normali Guarda che è spawnato uno, eh Dai Guardalo come si è camperato quello Eh, baffanculo però, eh Mamma mia, è stato molto tipo molto schifo Beh, vabbè Abbiamo vinto? Bella lì Bravi, bravi Questa è che poteva camminare Vabbè, 7 kill, dai Pensavo peggio Come vedete sono arrivato al leggendario E dal battle pass non mi ricordo Vabbè, qua abbiamo preso cose Livello 79 Vai, vai Sono Gerico Sono pronto Un attimo Dai Dai, Max Max, cosa stai facendo? Voglio sapere cosa stai facendo Stai grattando un panda? Sto vincendo il C come leggendario, guarda Madonna, sei ancora lì No Quella camuffa, guarda Io invece sono arrivato a 17.550 E facciamo un'altra stazione Ciao Madonna, 500 ragazzi, ho vinto 620 totali, mamma mia Mamma mia, i pro 18.170 Questa mi è piaciuta Mi portate fortuna voi C'è la piene di culo voi Ma ho capitato Vai Gio Ma non è vero Che sei fortunato in amore Tac Tac Sgangete Comunque non ho capito una cosa Allora, tralasciando il fondale Col ponte di The Golden Gate Bridge La cosa che non ho capito È che Avete presente l'immagine Quando tu apri il gioco Che c'è l'immagine di Alcatraz Che però è bella al buio Perché qua non è al buio? Cioè comunque sì C'è un po' di sole C'è un po' di atmosfera Però non è al buio Come nell'immagine Dai ragazzi, eh Come prima Anzi, meno di prima Dai, dai, dai Tutto Dai, dai, dai Dai, dai Aspetta Va, subito ICR O come diavolo si chiama Epico Mettimi questo Guarda che c'è un nemico Guarda che c'è un nemico Do cazzo sto? Bravo Max Grande Max Massalo Max è un fenomeno Troppo simpatico Se non ci fosse Max Ma di che cazzo stiamo parlando? Di puto di ruto Mazzalo Mazzalo E ruba Max, secondo me Non lo sa che uscirai nel video Max, lo sai che usciranno le tue perle nel video, eh? Non le taglierò Oh Lo so Ciao Ciao Ho la credito Io sono sotto Spottamelo che arrivo Eh, lo prezzo Ah, che prezzo Ah, che prezzo Ah, che prezzo Dottori Dottori Aspetta Vieni qua Dai che perdo la porta Cazzo, ragazzi Cazzo Ma che cazzo Stiamo parlando Cazzo Di bettivo Qui qui dove toglie Qui c'è un ICR Viola Che comunque E' un'arma fantastica Non vorrei dire Non vorrei dire Non vorrei dire Attenzione Max è morto Arrivo Arrivo Cazzo Eccolo 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 Stato di casa Per sto Che cazzo del nemico Vabbè La prendo io Guarda qua quante cose Guarda qua Guarda qua E vengo sempre Bella lì Anche il potenzamento No, ho già l'emozione Massima Vai col pompa Aspetta che lancio il dardo Tac E' sopra Aspetta E' andato di sopra Bella lì Mamma mia Mi è piaciuto Sto pochettone Ragazzi Pompa KRM Spacca le gengive Ragazzi Andiamo Sulla seggiavia Che dite Dai All together A parte che Tony Si è andato Per Lì Disconosciuti No Mi ha buttato giù Tony Ti faccio compagnia Parano come se giussi domani Ma perché sto giù adesso? Eh ma ogni tanto si bugga Quando ritorni su Cioè quando Ieri mi sono Ieri mi sono boccato Nella Una 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 E due Ciao gara Anticcio cara Perché sei una signora Bella Questa mi è piaciuta Siamo 7 kill Io vedo sopra Ragazzi Dai che qua c'è un po' di roba Guarda come fa lo spiritoso questo Aspetta Vieni qua Oh Di nuovo la Laura Ciao gara Cazzo Porco il clero Mannaggia La puttana di Eva Vabbè Adesso Andiamo a chiudere un po' di porte Dai Aspetta eh Aspetti Aspetti Vai Tac Tac Olè Siamo qua Venite Laura Vieni che tu Ti ammazziamo un'altra volta Aspetta che c'era uno Che prima Ma stava ammazzando malissimo Guardalo la Guardalo la Ragazzi c'è un nemico la eh Aspetta Aspetta che c'è un nemico la No no è morto già due volte Poraccio Bravissimo Aspetta che tol termino Molto bravo Tony Molto molto bravo Ripariamo la situazione Dai Max Zio Zio Pera Io sono In bella vista Che nascondersi Aspetta Vieni qua L'hai ammazzato? Aspetta che c'è l'altro Aspetta che c'è l'altro Aspetta che gli mando la rovina Ok Secondo piano credo E Ce ne sono due vicini Eccolo Aspetta che c'è quello Ah no sei tu Max manchi solo due Aspetta Aspetta era piano terra Credo Eh infatti Tony è morto come lo schifo Eccolo guardalo Sto aspettando che si ricarichi Il baracchino Ok ce ne sono due dentro Che tra l'altro sono gli ultimi due Che ci mancano Eccolo Urso tigela Che cazzo è una tigela Abba Io voglio vincere Eccoli qua guardali Eccoli uno Sì 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 Bella ragazzi Bella partita Mamma mia E siamo due volte primi eh Scusateli Anzi scusateci Tac Madonna Max Grandissimo Max Vai Come si Come si carica Come si fomenta il robottone Porto al lancio Allora Il porco dov'è Eccolo Allora Bella ragazzi Subito rampino Vabbè GKS viola Che fai Lasci State calmi Che adesso vi scanniamo noi I biondi Che trovate una caccia di viola Non lo spottate please No Grazie No no vi faccio Cosa c'è che ho detto HCR Aspetta Va bello Dove mi l'olla Via Boh Biondo Guarda questo Guarda questa sto stronzo che mi frega l'adrenaline l'amicizia sempre toni guarda oltre al danno la beffa dai tu ti lascio giù via sed dream dream vabbè guarda che ve l'ho visto mi raccomando ragazzi mascherine guanti ecco guarda madonna ragazzi ma che colpo aspetta togli sta cazzo di visuale donne i pro madonna i pro dammi sta roba ragazzi c'è un fucile da cecchino aspetta prima di fuggire da cecchino andiamo a covarci no dove vai puttana eva cazzo cazzo va a far culo madonna questo proprio abbiamo perso vabbè secondi boom livello 80 molto bene dai ragazzi siete carichi dai max guarda come si fomenta il robottone guarda guarda bello fomentato pronto al lancio tac precisione ma ma bello ma dove va vieni qua vaffan brodo bompi cozza ho visto coso ho visto anche il potenziamento grande questo mi piace ragazzi icr1 leggendario mamma mia speriamo di tenerlo a lungo aspetta guarda questo è bello sciogaro tante care cose cazzo ma questo qua scende mi spacca il culo è che il brutto dell'hacker è che non puoi togliere se sei in situazione concitata coprimi un attimo eh aldo coprimi un attimo ok posto 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 grande ragazzi apri la porta e chiudi la porta apri la porta chiudi la porta il pazzo dai ragazzi dammi adesso giù via max hai trovato il rompino? ah no perché t'ho visto per un attimo andare velocissimo minchia corri salvatemelo arriva bravo io ho ancora un po' la situazione e mi copri giù chiudi le porte e tutto ciò le porte vanno sempre chiuse che sennò entra freschino ok posso grazie caro attenzione che magari questo qua arriva dall'alto eh anche un po' di gente qualcuno mi copra poi c'è scritto destroyed non so cosa voglio dire cioè dire distrutto però lui ciao caro aiuto aiuto cazzo mamma mia come l'ho sfangata orco 2 sto figlio di una schifosa arriva colpito ciao caro aspetta oh bella così non puoi più volare dai ragazzi li sto accusando lì usando l'hacker bella lì tutta la casa poi aiuto come puoi ci sono un culo no beh vabbè grazie Eh vaffanbrodo Ho fatto la scematta di esser caduto Porca Vai 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 Abbiamo vinto grandissimi Bravi ragazzi veramente bravi Dai tre partite primi E una partita secondi Niente male Stiamo diventando dei pro qua Buongiorno ragazzi Quindi questo è quanto Ci siamo comunque divertiti Bella Alcatraz E bella adrenalinica C'è Joe che fa il pirla con il suo bastoncino luminoso Tra l'altro devo capire come è che io fare sto balletto Perché l'ho sbloccato anche io il bastoncino Però non so se è una cosa del bastoncino O è proprio un ballo Quelle cose fatte con l'arma Che puoi fare appunto Così a cazzo non lo so devo capirlo Comunque ragazzi per concludere il video Ve lo dire anche che sto scaricando Code Warzone Cioè si sta mettendo una vita Tipo un giorno che da un load Mancano ancora tipo 80 giga Sperando Dio che il computer me lo regga abbastanza bene Poi andrò a vedere un attimo i settaggi Per quanto riguarda la grafica Poi eventualmente Non è che eventualmente Poi vi porterò qualche video Appunto sperando Dio Che quantomeno sia fluido Spolliciate che mi fa sempre molto piacere Grazie mille di vedere i miei video Vi abbraccio tutti Da Ale Pasquali Mando un enorme saluto Appunto un enorme abbraccio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti